E adesso 5.11 con una bellissima novità, il Rapid Exclusion Pack. Che cos'è uno zaino di questo tipo? Beh, sono tante le occasioni in cui uno arriva con il suo zainone da una parte, ad esempio un camping, monta tutto e poi magari vuole rimuovere dalla tenda degli oggetti, che ne so, il cambio per la doccia, cellulare, telecamera, pannello solare, power bank per mettersi da un'altra parte, insomma ha bisogno di un sistema comodo e secondario per portare degli oggetti. Beh, il Rapid Exclusion Pack è quello che stavamo tutti aspettando. La cosa interessante è che è dotato di spallacci e quindi io con questi spallacci super traspiranti e leggeri posso portarlo come uno zaino. Quindi finché si trova nel bagaglio principale è una sacca, ma il vero vantaggio è quando io poi lo tiro fuori dello zaino e mi porto con me gli oggetti. Non ha tasche interne, ha solo il tascone che vedete, capacità di 23 litri, è tutto un sistemino di elastici per bloccarlo, ma anche una soletta qui con il suo passantieco. Qui ho bloccato perfettamente. L'ultimo segreto di questo Exclusion Pack che è disponibile sia in questa colorazione che in Double Tap da questa parte, lo vedete lì, ed è bellissimo con il logo di 5.11 arancione, è che è compatibile con gli zaini Rush. Che significa? Significa che se invece di sistemarlo all'interno dello zaino io decido di sistemarlo fuori dallo zaino, beh mi fa sia un po' da copertura per la pioggia che da tasca esterna supplementare. Ecco il mio Rush 72, avrei dovuto disfarlo ma è ancora qui tutto per noi, e mi basta prendere questi gancetti AC e collegarli allo zaino in questo modo qui. Spero si veda ma i disegni Rush hanno tanti sistemi molle da tutte le parti, ecco che se riesco a vedere anche io è più facile, uno è agganciarlo anche dall'altra parte. E adesso ho bloccato, vedete, lo zainetto allo zainone, mi sono costruito una roba mostruosa. Ovviamente qui ci metteremo qualcosa di leggero, altrimenti finiamo zampe all'aria come le tartarube ubriache, ma è comodissimo da tenere qui per quando serve. Arrivo al camping, mi sistemo tutte le mie cose, arrivo al mare, arrivo nella zona dove abbiamo deciso di fare campo, al rifugio, magari non voglio lasciare oggetti di valore, ho bisogno del cambio, per qualsiasi ragione, quello che mi serve lo ficco qui dentro e via.